L'ultimo viaggio. Quando arriverai all'ultimo viaggio, cosa metterai nel tuo bagaglio? Metterò tutto l'amore che ho dato e quello che ho ricevuto. Metterò il poco bene che ho fatto e il tanto che avrei voluto fare. Metterò la mia vita con le sue gioie e i suoi dolori. Non ho altro da portare. Dove andrò? Tutto il resto non serve. A chi mi chiederà cosa hai fatto? Risponderò. Ho amato, gioito e pianto, ho dato e ricevuto felicità. Ho vissuto.